Impianto CB su Panda 4x4 Seasley, la Panda dell'86, dove il proprietario è l'utilismo Cascina Graziosa di Lonato Lago di Garda, un po' di pubblicità. Abbiamo installato questa antenna, un'antenna indicativamente di un metro, dove lui la utilizza per qualche raduno ma anche per la sua azienda per comunicare nella breve distanza quando va nelle sue tenute e in più abbiamo messo su il CB. Il CB è un Alan 48 Plus, sparato 40 canali, 3-4 W di potenza della Midland, diciamo un discreto apparato. Ecco, l'ho posizionato in questo punto mettendo anche un altoparlante esterno per migliorarne quello che è la qualità dell'audio e della ricezione, quindi dell'ascolto. Attenzione se c'è qualcuno che ci ascolta per un controllino non approva radio. Quindi, se anche tu hai la necessità di installare il tuo impianto CB, puoi rivolgerti direttamente al TrackPoint. TrackPoint si trova in provincia di Cremona, sulla statale 10 Cremona-Mantua. Come puoi vedere dispongo di un ampio piazzale dove puoi comodamente arrivare col tuo mezzo. Io mi occupo di riparazioni, installazioni, modifiche CB, cosiddetti Baracchini, da 33 anni qui in provincia di Cremona. Per ulteriori informazioni mi puoi contattare i numeri qui in sovrimpressione allo 0 375 98 340, sul numero di cellulare che è anche il numero di WhatsApp il 335 446 595. Il TrackPoint spedisce in tutta Italia, quindi eventualmente mi puoi contattare anche per un'eventuale spedizione. Ti ricordo inoltre che se non ti sei iscritto ancora al canale YouTube TrackPoint, fallo ora, attiva la campanella per restare aggiornato sempre sui nuovi video. Se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici, io ti ringrazio per essere stato con me e dalla tua attenzione, noi ci vediamo al prossimo video.